e 24 ore e dell'acqua di riserva l'abbiamo parato con della semola di tuscos e l'abbiamo messo al forno con una di oliva a parte abbiamo fatto dei cacciotti scufati con fruttolaio, vino pianto, per semolo e un pochettino di quello vegetale la metà l'abbiamo messo, abbiamo frullato e abbiamo fatto una tazza che vedete sotto l'altra adesso è una guarnizione e poi abbiamo fatto una ammellata di cipolla di tropea che abbiamo messo sotto il farfallato posso sentare questa sensazione l'amaro delle cacciotti l'attività data dalla marmellata di cipolla e un po' di sprint in più dall'azienda ecco, perché è passata perché l'attività di Capone è un diventicatore che risce sulle figlie della cala non rende ancora più tenore senza forzare nella sua cultura grazie 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 grazie